Vaccinarsi per evitare un'eventuale ospedalizzazione o una malattia grave. Il dottor Paolo Fazi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Virologia e Microbiologia dell'Ospedale Civile Santo Spirito di Pescara, fa il punto sulla pandemia alla vigilia del Ferragosto, sottolineando l'importanza del vaccino. Il vaccino sicuramente ci protegge dalla malattia grave e quindi invito tutti quanti a vaccinarsi perché abbiamo visto che la stragrande maggioranza, ma si parla del 99% dei soggetti deceduti per Covid-19 erano persone che non avevano avuto vaccino e avevano avuto una sola dose. Quindi prima considerazione andiamoci a vaccinare. La circolazione del virus che c'è stata nell'estate scorsa e c'è pure, come i numeri purtroppo ci indicano, anche quest'estate porteranno un grande numero di soggetti asintomatici nel periodo in cui il virus dà il peggio di sé e quindi con il freddo. Per cui da una parte c'è il ruolo protettivo del vaccino, ma dobbiamo vaccinarci tutti quanti. Dall'altro c'è il rischio concreto di una nuova ondata epidemica che verosimilmente darà un numero minore di ospedalizzati e di decessi, però magari con i numeri potremmo essere anche molto su, sicuramente, però fortunatamente vedremo meno decessi e meno malati. L'apertura delle scuole tra poco più di un mese sarà da seguire con attenzione, considerando che sotto i 12 anni non è prevista la vaccinazione. Purtroppo al momento dai bambini al di sotto i 12 anni non si possono vaccinare. Speriamo tutti che fra poco ci sarà il via anche per questo setting di popolazione. Si tratta ovviamente di una fetta di popolazione che è scolarizzata e quindi in pratica con l'apertura delle scuole il rischio di aumenti di casi c'è. Sulle varianti il dottor Paolo Fazzi spiega il motivo della loro aggressività nonostante il periodo caldo. Il virus quando, infatti specie come in SARS-CoV-2 c'è stato il salto di specie, ha trovato un organismo nuovo, un ospite nuovo e quindi deve in pratica con queste mutazioni adattarsi gradualmente all'ospite nuovo. Quindi adesso purtroppo ci troviamo in una fase di patogenicità perché questo virus non si è depotenziato nelle capacità patogenetiche e dall'altra parte invece sta migliorando le sue performance in termini di velocità di contagio. Perché? Perché poi il virus che poi risulterà vincente sarà quello che avrà grosse capacità infettanti ma che nel contempo si sarà depotenziato nella patogenicità. Adesso ci troviamo in questa fase. Queste varianti che stanno uscendo adesso sono virus che hanno migliorato tantissimo le loro capacità infettanti però non si sono ancora depotenziati. Bisogna aspettare ancora mesi, forse anche qualche anno, non lo so, spero solamente mesi affinché ci sia un ceppo, una variante vincente, cioè ad altissima contagiosità ma a bassa patogenicità che possa praticamente rubare il tempo e l'ospite a tutte le altre varianti più patogene. Quando si arriverà a una situazione di stallo come questa potremmo dire che la pandemia sarà scomparsa e magari potremmo ammalarci solamente di un banale raffreddore perché poi alla fine, così come hanno fatto gli altri coronavirus umani che ci danno il raffreddore comune, anche questo SARS-CoV-2 ci darà un raffreddore comune.